benvenuti nuovamente al mio canale sto passeggiando vi mostro una cosa aspettiamo un attimo che devo attraversare la strada grazie ciao bella ragazza allora poi direte che cosa stanno facendo allora finalmente quest'anno avremo la festa del carro di gesù nazareno a san giovanni gemini erano due anni che non non veniva costruito il carro l'anno scorso l'avevano fatto molto più piccolino quindi una domenica di giugno non so quale verrà fatta questa festa del carro ecco vi sto facendo vedere la imparcatura ancora deve crescere in altezza vedete è la festa che viene fatta qui a san giovanni gemini praticamente il carro dovrà scendere e viene chiamata la scinuta guardate poi ci sono tutto il legname per fare il carro e ci sarà la scinuta e la chianata del carro in questa via Francesco Crispi poi vi farò sapere la domenica che svolgerà questa questa festa come vedete qui è animata di passeggiate di della messa a quest'ora dei quattro canti in cui a quest'ora c'è l'aperitivo vedete la piace molto animata vedete attenzione alessio ecco il carro scenderà fino al pezzi comune ciao adesso ci sei? mio figlio non vuole essere ripreso vabbè è peggio di me praticamente il carro scenderà giù dove ci sono quegli alberi c'è una piazzetta una rotatoria dove io abito nei pressi di questa piazzetta insomma vi mostro qualche video anche su cose che si realizzano in questo paese comunque la festa del carro di Gesù Nazareno è molto conosciuta immaginatevi che la festeggiano anche a New York specialmente nel quartiere New Jersey dell'America mi sembra in Inghilterra in Germania dai gli immigrati siciliani dai San Giovannesi vedete farà tutta questa scinuta fino alla piazza e poi la chianata in siciliano comunque poi vi farò sapere è la domenica che verrà fatta questa festa ok e si fermerà qui alla piazzetta del Pizzicomune dove c'è la rotatoria probabilmente scenderà anche un pochino più sotto della piazzetta intanto vi invito a mettere un mi piace al mio canale vi terrò aggiornati informati su questa festa aspettate che c'è un po' di traffico e infatti stanno riparando un po' la strada la scinuta del carro perché ci saranno anche le persone ecco vedete ora concludo qui il mio video vi terrò informati aggiornati ve lo ripeto scusami ma sto facendo un video sono una youtuber allora c'era un ragazzino con la bicicletta elettrica che mi suonava perché stavo in mezzo alla piazzetta comunque concludo qua il video ci vedremo prossimamente spero di fare qualcosa anche in cucina oltre che l'associazione della situazione esistenziale con l'odissea e l'iliade ecco io sono quasi vicino a casa vi saluto prossimamente mi raccomando se vi è piaciuto il video mettete un bel like iscrivetevi e se volete commentare e se conoscete questa festa arrivederci ciao